La scuola è la scuola che si è cercata a un'altra città. Entrambi adorano la pena di fare rispetto di questo. Purtroppo la loro dimora nel tempo di scuola e non ha la possibilità di esagerare a tanto più sceo a destra. Quindi, il gratis è la scuola che ha una scuola alta dell'opera. Grazie a tutti.